Queste immagini del pubblico festante che si rega allo stadio si riferiscono alla gara di Praga dell'8 marzo del 1967, gara tra Ducla di Praga e Ajax, gara di ritorno, immagini del pubblico olandese che spera nel passaggio del turno, l'Ajax è ancora lontana dai grandi successi, non riuscirà nell'impresa anche se riuscirà a rimanere in equilibrio in partita fino al 66esimo, qui il calcio di rigore con cui l'Ajax, anzi scusate la Ducla di Praga con Strunk al 53esimo si porta in vantaggio 1-0, nel secondo tempo ci sarà il pareggio dell'Ajax con Svart al 66esimo e poi però dopo due minuti il gol, l'autogol di Sötelo, eccolo qua al 68esimo e l'Ajax perde 2-1, risultato finale.